Si allungano i tempi del cantiere di Piazza Libertà. Da oggi è sospesa la posa in opera dei pavimenti in pietra a seguito del blitz di lunedì scorso degli uomini dell'Ispettorato del Lavoro che hanno riscontrato violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare ora l'amministrazione comunale dovrà adempiere alle prescrizioni che riguardano il PSC, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo per la Sicurezza. Fino ad allora il cantiere resterà chiuso. Intanto a Palazzo di Città è polemica perché l'assessore Preziosi fa sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione dello stop ai lavori. In ogni caso assicura i tempi saranno rispettati, la nuova agora sarà consegnata alla città entro fine anno. Non è la prima volta che il cantiere si ferma, era già successo a luglio quando fu necessaria una perizia di variante per la modifica del progetto. I lavori sono cominciati a gennaio e dovrebbero durare 320 giorni. L'intervento costerà complessivamente 5 milioni di euro. Intanto ieri clima attesissimo in comune tra l'opposizione e l'assessore al bilancio alla Zazzara su un altro argomento che riguarda Piazza Libertà, il parco sotterraneo mai realizzato. Al centro della discussione la delibera del comune con cui si autorizzò un pagamento di 220 mila euro per il parcheggio. Dalla documentazione prodotta dal capogruppo dell'opposizione Costantino Preziosi è emerso che in mancanza del piano economico di gestione l'amministrazione non avrebbe potuto effettuare alcun pagamento. La Zazzara messa alle strette avrebbe minacciato anche le dimissioni con tanto di lettera già pronta. Poi una mediazione del sindaco Foti ha fatto rientrare la cosa e l'assessore è riuscita a bloccare la procedura di pagamento. Ma la questione è soltanto rimandata anche perché la minoranza ha evidenziato altre zone d'ombra negli ultimi tre bilanci approvati dal comune chiedendo su questo un consiglio comunale straordinario.